Si fa di giorno in giorno sempre più rovente a Sarzana la protesta sul progetto per la costruzione di un palazzo di cinque piani nella centralissima piazza Martiri, un progetto rilasciato ai privati dalla precedente amministrazione e che rientra nel piano di recupero dell'ex albergo Laurina. A contestare la costruzione non c'è solo il comitato Sarzana che botta, sempre molto attivo in città. Adesso si affiancano anche Libera la Spezia, Quarto Piano e Legalité. Le associazioni chiedono al sindaco Cristina Ponzanelli e al Consiglio Comunale di bloccare il progetto e di ripristinare il parcheggio pubblico interato che era previsto nel vecchio piano del 2009. La protesta continua a salire e sono sempre di più i comitati e le associazioni che attraverso la raccolta di firme sollecitano un intervento del sindaco su una vicenda che sta scuotendo la città. Nei giorni scorsi nel cantiere aperto di piazza Martiri sono intervenuti anche gli uomini della Guardia di Finanza. In attesa di quanto potrà scaturire dall'inchiesta, i cittadini chiedono all'amministrazione di dire come stanno le cose. Il silenzio degli amministratori non aiuta certo a capire e al cittadino non resta che affidarsi ai comitati per avere quelle risposte che non arrivano dal palazzo. La vicenda di piazza Martiri è senz'altro complessa sotto l'aspetto giuridico e comprendiamo benissimo le difficoltà che incontra l'attuale amministrazione, ma i cittadini hanno diritto di sapere cosa sta succedendo, soprattutto capire se quel progetto è stato autorizzato così come sta per essere realizzato. Toccherà poi agli organi competenti intervenire per individuare eventuali responsabilità, ma dire a che punto stanno le cose ci sembra sia un dovere da parte di un'amministrazione che vuole recuperare a Sarzana quella normalità che sembrava essersi sbarrita. A tutti auguri di buon Natale.